Buongiorno e benvenuti a IT 2019, il prodotto, anzi mi correggo, il gioiello che ho in mano è la nuova 98FS Fusion Blue, il terzo esemplare della nostra serie limitata Fusion. Perché Fusion? Perché con questo termine vogliamo esaltare i diversi materiali che abbiamo utilizzato e celebrare la nostra pistola più iconica e più importante della gamma Beletta. Blu perché il colore del lutturatore e del fusto è ricavato tramite un trattamento superficiale che si chiama bluitura. I componenti come il grilletto, la sicura, il cane, il pulsante sganzo caricatore sono stati cromati e poi lucidati per ottenere una finitura a specchio dai nostri artigiani che lavorano in Beletta 2. Le guanzette sono in carbonio di colore chiaro in cui abbiamo inserito un inserto di madreperla. Lo scudetto ha il logo Pietro Beretta che viene inciso a punta e martello dal nostro maestro e incisore Luca Casari. Non dimentichiamoci che oltre a essere esteticamente molto bella, questa pistola garantisce anche delle rosate eccellenti perché la canna è super selezionata ed anche lo scatto è accuratissimo. La Fusion Blue è disponibile in soli 40 esemplari calibre 9x21 per il mercato italiano. Grazie a tutti.